Ciao, sei felice? Certo, una bella giornata, è stata una bella gara, un ottimo percorso, faticoso. Che cos'è la felicità? La felicità è stare una bella giornata insieme alle persone a cui stai bene, in questo caso con gli amici. E com'era questo percorso? Bello, faticoso. Correre è felicità? Correre fa parte, è una delle componenti della felicità. Come ti chiami? Marco Baccon. Grazie Marco. Grazie a te.